E ciao a tutti amici, io sono Franco Versa. Una grande novità, l'update a NAB di DaVinci Resolve giunto alla versione 19. È ancora in beta, però posso già dirvi le novità. Quindi andiamo a scoprirle assieme. Eccoci all'interno di DaVinci Resolve. Prima di procedere con qualsiasi operazione vi consiglio di fare un backup. Andate a cliccare sulla casetta, andate a cliccare qui se non avete aperto il vostro database. Come vedete io ho tre database diversi, voi probabilmente ne avrete uno solo. E andate a cliccare su questa i dove è scritto dettagli. Andiamo a cliccare qui e qua possiamo eseguire il backup dell'intero database che contiene tutti i nostri progetti. Questo è importante per evitare qualsiasi problema. Seconda cosa, per scaricare l'update o viene suggerito in automatico all'apertura di DaVinci, come nel mio caso. Oppure potete andare in DaVinci Resolve e cercare gli aggiornamenti. Nel mio caso, come vedete, è già stato aggiornato. Potete andare online alla pagina blackmagicdesign.com slash it slash support. E qui, scendendo giù, troverete i download che possiamo fare. Come vedete, DaVinci Resolve 19 beta 1 pubblica e DaVinci Resolve Studio 19 1 pubblica. Attenzione a scaricare quello corretto, cioè se avete la versione free scaricate questo, se avete la versione a pagamento scaricate questo e ovviamente scaricate quello giusto relativo al sistema operativo. Una volta installata la nuova versione e lanciato il programma, se desiderate installare la lingua italiana dovete andare su DaVinci Resolve, Preferences, Utente, Interface, Interfaccia e qua potete impostare la lingua. Come vedete, tra la lingua c'è anche l'italiano. Una volta inserito italiano e salvato, dovete chiudere e riaprire il programma. Solo così troverete tutti i menu in italiano. E ora passiamo alle novità. Nella versione studio la trascrizione dell'audio è migliorata. Andiamo a premere sulla clip e andiamo a fare trascrizione audio. Come vedete troviamo, oltre a trascrivi, ora è tutto in italiano ovviamente, anche speaker detection. Che significa che se clicchiamo su questa e dopo andiamo a eseguire la trascrizione audio come facciamo prima, non solo avviene una trascrizione di ciò che viene detto, ma anche una suddivisione di chi parla. Andiamo a vedere, facciamo trascrivi. Come possiamo vedere sulla finestra che si apre abbiamo la trascrizione del testo, nella lingua ovviamente parlata, e abbiamo speaker 1, speaker 2. Quindi qui potremo anche assegnare il nome dello speaker. A questo punto è possibile montare il video in timeline sottolineando ciò che vogliamo e inviandolo così in timeline. Questa frase sarà proprio questa. Questi simboli invece indicano gli spazi e è possibile cancellarli completamente con un colpo solo. È possibile fare questa operazione anche direttamente sulla timeline. Se faccio una trascrizione di una clip e poi questa clip l'ho anche in timeline, posso passare dalla trascrizione della clip alla trascrizione che ho sulla timeline semplicemente cliccando quest'icona. Quindi questo che stiamo vedendo è in realtà la timeline. Quindi se io voglio cancellare ad esempio un pezzo di frase, ad esempio in una direzione un po' strana, faccio così, la sottolineo, vedete che mi viene segnalato e quindi posso andare a intervenire in quel punto, per esempio cancellandolo. Con questo andrò a rimuovere i buchi e quindi ora avete visto ho rimosso i buchi e cancellato quel pezzettino di frase. Audio ducking sono molte le novità perché noi andiamo su una traccia audio, qui ho il mio parlato, qua ci sono dei buchi. Andiamo a cliccare qui sulla traccia e si apre questo insieme audio. Andiamo a fare ducker, questa sarà la traccia del mio parlato che si trova in audio 1 e questo qua sarà il duck lever, cioè di quanto deve abbassarsi la musica. Poi abbiamo anche delle funzioni avanzate, ma andiamo a sentire già così, guardiamo anche i livelli. Bene, il caffettino ho bevuto, adesso andiamo a dare sull'edito attoretto. Vedete cosa non è bello di Venezia, Venezia è bellissima come immagini. E avete visto, adesso regolato male, ma l'audio viene abbassato e alzato direttamente senza dover passare per la far light, attivare listen, send, eccetera, direttamente con questo controllo. Ovviamente qua abbiamo i controlli per la velocità di reazione in entrata della musica e in discesa e la tenuta per quando trova gli spazi vuoti, cioè come deve reggere quanto deve trattenere l'audio. Troviamo tutto qui. Tante cose con l'intelligenza artificiale. Sempre da questo menu abbiamo Music Remixer. Cosa fa questo? È una cosa incredibile. Da una musica, andiamo a sentire, possiamo andare a mutare o a livellare varie caratteristiche del suono. Ad esempio possiamo mutare tutto, adesso io faccio una prova così, e tenere solo la parte dei drums. Ok, avete capito quanto potente questa cosa. Andiamo ad aggiungere i bassi. e così possiamo fare con la voce, mutare la voce, aggiungere la voce e come vedete appunto livellarli. Vi ricordate il Voice Isolation che ci va a eliminare i rumori? Si ottiene sempre cliccando sulla traccia. Andiamo a sentire. Cliccando qua possiamo isolare. Vedete cosa non è bello di Veneta? Veneta è bocchissima come... Ma ora abbiamo questo nuovo Dialog Separator. Cosa fa questo? Distingue la voce dal background e l'ambiente e ci permette di ottenere la stessa funzione, cioè quindi quella di andare a mutare il background e l'ambiente. Però possiamo anche fare il contrario, mutare la voce e tenere l'ambiente. A cosa può servire? Può servire dove abbiamo bisogno di sentire suoni e rumori e magari qualcuno ci ha parlato sopra. Incredibile. Quando facciamo un ralenti con lo speed wrap e andavamo su stima movimento. Avevamo lo speed wrap era molto lento perché era migliore. Ora abbiamo uno speed wrap better e uno speed wrap faster e quindi adesso il ricalcolo è molto più veloce. Quando adesso usiamo un testo più per andare a scrivere qualcosa nella edit page, possiamo attivare i controlli Fusion. In questa maniera possiamo vedere anche i caratteri. Andiamo a cliccare template e possiamo anche posizionare manualmente i caratteri. Questo accelera il lavoro perché non dobbiamo più entrare in Fusion e attivare modificatori o altro per poter creare queste composizioni. Poi possiamo ritornare alla trasformazione normale. Questo ci permette ovviamente anche di creare delle animazioni. Quando selezioniamo un taglio per trimmare a destra o sinistra, adesso sul viewer apparirà questo schema che è come quello della edit page dove abbiamo il frame finale della nostra clip uscente e il frame iniziale della clip entrante. In più abbiamo tutti questi controlli che ci permettono di controllare cosa stiamo facendo quando andiamo a eseguire il trim in avanti o in indietro. Vedete che vengono segnati i frame qui e possiamo verificare il taglio. Inoltre possiamo anche qui spostare entrambi i punti premendo qui o possiamo andare a trimmare spostando direttamente i punti qua avanti e indietro. Quindi diciamo un controllo molto più preciso su quello che stiamo facendo. Sul tab effetti prima sulla casella di ricerca quando cercavamo un effetto non lo trovavamo se eravamo ad esempio su strumenti e questo si trovava su openfx. Adesso possiamo andare qui selezionare old folder e in questa maniera se io scrivo bcc page turn come vedete anche se mi trovo in strumenti la ricerca verrà estesa a tutti. Quindi come avete visto da questo segno di spunta possiamo dire solo sul folder corrente o estendila a tutti. Un'altra cosa quando andiamo a aprire un folder ad esempio transizioni come vedete si apre questo e poi abbiamo delle sottocartelle diciamo queste potrebbero essere chiuse quindi aprendo o chiudendo queste rimarranno chiuse e non vediamo cosa c'è sotto. Ora abbiamo la possibilità di fare questa operazione tenendo premuto il tasto alt quindi alt tasto sinistro del mouse e si apriranno anche tutte le sottocartelle. Questo è molto comodo se dobbiamo cercare in colpo anche nelle sottocartelle e non vogliamo star lì aprirle una per una manualmente. Siamo abituati che nella edit page quando premiamo play la playhead avanza invece nella cut page siamo abituati che quando premiamo play avanza il video ma la playhead resta fissa. Bene da oggi questa cosa si può ottenere anche sulla edit page dove il menu è stato completamente rinnovato. Se clicchiamo troviamo un menu a descesa molto più semplificato. Tra queste varie voci vedete che troviamo anche fix playhead. Cliccando qui avremo lo stesso effetto vedete la playhead resta ferma e il nostro montaggio scorre. Ovviamente anche quando ci muoviamo otterremo lo stesso risultato per cui a voi la scelta di cosa preferite. Quando facciamo diversi lavori possiamo creare molte timeline. Io adesso vado ad esempio a duplicare questa. Eccola qua timeline copy. Se nella nostra fase di lavoro andiamo a cancellare una timeline. Nelle altre versioni saremo andati a perdere in maniera irrimediabile la nostra timeline e quindi tutto il lavoro. Per rimediare andiamo su questi tre puntini della media pool e andiamo a cliccare delete timeline backup. E come vedete vediamo che abbiamo cancellato questa timeline 1 e anche con gli orari in cui l'abbiamo cancellata. Quindi prendiamo l'ultima per esempio facciamo restore e ci ritornerà la nostra timeline. Quindi andiamo a chiudere e abbiamo recuperato il nostro lavoro senza aver perso nulla. Importantissimo. Prima potevamo usare sugli open effects degli effetti di trasformazione. E su questi inserire dei keyframe. Ad esempio io ho inserito su open effects trasformazione semplicemente uno zoom che va su e giù. Vedete. Prima allarga e poi stringe. Però se visualizzavamo i keyframe ovviamente dobbiamo andare a segnare quale caratteristica vogliamo visionare. In questo caso io ho inserito zoom. vedete che vediamo le curve. Ecco in queste ora è stata aggiunta la possibilità di avere le curve di Bezier che prima non si potevano avere. E questo farà sì che i nostri effetti potranno essere molto più morbidi. Quindi quando facciamo un audio sync e sincronizziamo le clip come audio ora abbiamo la possibilità quando andiamo in waveform non solo di sincronizzare due audi ma di chiedere con quale canale sincronizzarli. Vedete possiamo sincronizzarli con un mix dei due canali con canale 1, canale 2 o automaticamente perché potremmo aver bisogno di ad esempio sincronizzarli con un parlato che in traccia 1 e magari in traccia 2 abbiamo la musica, un ambiente eccetera e quindi così la sincronizzazione sarà molto più precisa. Per quanto riguarda il tracker ora abbiamo una funzione di intelligenza artificiale IntelliTrack. Andiamo nella pagina color e andiamo all'interno del tracker. Da qui scegliamo FX e andiamo a posizionare il tracker nel punto che ci interessa. Io lo inserirò là. Basta, il gioco è fatto, andiamo a tracciare e l'intelligenza artificiale come avete visto in maniera rapidissima si guidà in maniera molto precisa il nostro punto tracciato. Ovviamente questo si può fare con più punti di tracker IntelliTrack. Per la regolazione del colore, quindi sulla color page, abbiamo ora un nuovo controllo color slice che si attiva da qui. Questo fa apparire queste sette aree corrispondenti a ognuna a una gamma cromatica. Ad esempio il rosso, giallo, verde, ciano, blu e magenta più lo skin color, cioè il colore della pelle. È molto interessante vedere come possiamo agire direttamente su quel colore. Potremmo creare altri nodi per separarlo. Ma se andiamo a vedere, io ad esempio abbasso i rossi, vedete che qua il rosso è sparito. Quindi posso intervenire su quel colore saturandolo e andando a scurire o schiarire quell'area o centrar meglio quel colore o sfasare quel colore. Io ad esempio sposto i rossi sui verdi. E vedete che tutti i rossi contenuti nell'immagine sono andati sfasati sul verde. Questa cosa qui si può fare appunto direttamente controllando quella gamma colore, ad esempio yellow. Andiamo a desaturare yellow. Vedete che però non prendiamo bene questa gamma e così la vado a centrare. Come faccio posso anche cliccare qui per vedere la maschera e così centrando la mia parte posso vedere se rientra nella mia maschera. Ora vado a disattivare e vedete che ora ho centrato bene quel colore arancione che mi serviva. Questa è una notevole possibilità in più per intervenire sulla singola gamma cromatica. Ora abbiamo possibilità di creare degli effetti di defocus sul background della pagina color. Scriviamo defocus background, inseriamo l'effetto, creiamo la maschera sul nostro soggetto. Possiamo visionare la nostra maschera, il preview della nostra maschera e da questo punto possiamo andare a creare il blur sul fondo. Ovviamente andremo a fare la tracciatura, possiamo anche inserire una desaturazione sul fondo, quindi tenere il soggetto a colori e il fondo bianco nero sfocato, come vedete, come desideriamo, o a fuoco. E possiamo anche inserire una dominante colore, colore che scegliamo qui. Quindi andiamo a fare il tracciato della maschera e ecco qua il nostro effetto finito. Possiamo anche aggiungere il blur a seconda del Gaussian o della lente, come vedete. Tante volte abbiamo un rumore sull'immagine, io adesso ho esasperato la cosa proprio per farvela vedere di più. Ecco un'immagine girata di notte dove abbiamo un altissimo rumore. Andando sulla color abbiamo possibilità di inserire la riduzione del rumore, ma questa ha dei calcoli molto molto pesanti e lenti. che non invogliano sicuramente a eseguire un'operazione di questo tipo. Da oggi abbiamo un ultra nr, ci basterà selezionare questo tipo di riduzione rumore, cliccare analizza, come vedete verrà inserito un punto in automatico e verrà analizzato il rumore di luminosità e croma in automatico. E basta, non dobbiamo fare altro. Boom! La nostra immagine verrà calcolata. Beh, qua l'effetto è esasperato come vi dicevo. Però, avete visto, guardiamo un prima e un dopo e vedete come ha lavorato con tempi molto più veloci di prima alla riduzione del rumore. Nella cut page le transizioni e gli effetti erano un vero disastro come erano ordinati. Bene, ora possiamo vedere che c'è stato un riordinamento e quindi è tutto molto più comodo da consultare. Ok, ora anche dalla cut page è possibile vedere gli overlay degli effetti generati in Fusion. E come vedete anche gli open effects overlay. In Fusion ora è possibile visualizzare anche la gestione colore corretta perché questa era possibile vederla nella edit e nella color. Però quando andavamo in Fusion perdavamo appunto le impostazioni di spazio colore. Invece adesso questo è stato sistemato e quindi è possibile visualizzare nel modo corretto l'immagine anche in Fusion. Sul planner tracker è stato aggiunto un comando di scale to source che ci permette di modificare il media in ingresso alla risoluzione della nostra timeline. Sempre in Fusion abbiamo un nuovo nodo della serie shape quindi S, B, spline. È un nodo spline che però appunto vedete si muove in tutta la serie degli shape. Quindi con questo possiamo andare a creare delle forme morbide, quasi fossero dei blob perché poi li possiamo andare a modificare un po' come era questo nodo qui B spline. Che però questo è normale e invece qui questo muovendosi sugli shape possiamo andarlo a unire a tutti gli S polygon, S circle, S ngon e quindi possiamo utilizzarlo per creare forme particolari e poi vedremo con i tutorial a cosa serve. Sempre in questo possiamo andare a utilizzare un nodo S text. Che differenza c'è tra un nodo S text e un nodo test per esempio? Beh ve la faccio vedere subito. Ecco ora ho fatto una piccola programmazione per farvi vedere. Ho realizzato questo background tagliato da questo rettangolo per fare una riga e questo testo. Questo testo adesso lo faccio piccolo 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 perché mi serve così. Ok ma ora in esterni dobbiamo avere la possibilità di ingrandirlo. Quindi andiamo a mettere un transform e ora con il transform andiamo a ingrandire questo testo. Ma lo ingrandiamo, lo ingrandiamo, lo ingrandiamo e se andiamo a vedere cosa è successo, è successo che più lo ingrandisco e più questo testo va a pixelizzarsi. Vedete? E' proprio come fosse un bitmap. Per cui se lo ingrandisco dal suo size resta perfetto ma se lo ingrandisco dopo abbiamo purtroppo questo effetto di sgranamento. Bene, questo s-test previene questo. Guardate, rifacciamo la stessa cosa, scrivo test 2, eccolo qua. Lo rimpiccioliamo come abbiamo fatto prima. Ora con un s-polygon ho realizzato questo, la riga, ok. Adesso usiamo un s-transform, quindi vedete che ci muoviamo tutto negli shape. Andiamo a fare la stessa cosa di prima dove andiamo a ingrandire, ecco qua. Ora ingrandisco come prima veramente tanto e se andiamo a vedere il nostro testo adesso è perfetto, non sgrana. Come potete vedere, guardate la curva come viene ritracciata. Perché stiamo lavorando con uno shape che è come fosse vettoriale. Ecco la differenza con un nuovo nodo s-test. Un'altra novità è quella di poter effettuare un tracking e far spostare dei suoni in base alla posizione di questo. Ho realizzato in Fusion una pallina che si sposta e ho messo un rumore continuo sotto. Non ha importanza, può essere un qualsiasi suono. L'importante è che sia stereo. Ora vado sulla far light. Cosa faccio? Vado a inserire un in e out dove ho l'effetto. Devo andare a selezionare la traccia dove ho questo effetto. Qui vado a inserire come voglio che si sposti l'audio. La pallina si sposta da sinistra a destra. Quindi anche il mio audio deve spostarsi da sinistra a destra. E poi vado a posizionare questo tracker. Show tracker control. Lo vado a posizionare sulla pallina. In questa condizione dove ho marcato in out, selezionato la traccia e selezionato la direzione. Con auto premuto vado a ripremere tracker. E viene eseguito il tracking dello spostamento della pallina. Cosa succederà ora? L'audio passerà da una parte all'altra dello schermo. Ecco un nuovo effetto della far light. Ovviamente questo si può fare in più direzioni. Anche il face refinement è stato migliorato. Come velocità e come altre cose. Vengono rilevati più visi. E come vedete viene evidenziato uno per dire che è quello dove andremo a lavorare. Quindi facciamo il tracciamento. L'analisi. E ecco qua. Vedete che la maschera è stata messa lì. Adesso è un po' piccolino. E poi possiamo fare una bellezza automatica. O intervenire su qualsiasi parametro. Il trucco, le labbra e come era prima. Abbiamo un magic mask più veloce. Come si fa? Si va sull'effetto magic mask persone. Andiamo all'inizio. Andiamo a segnare un tratto sulla persona che vogliamo ritagliare. Possiamo controllare la nostra maschera cliccando qui. E quindi possiamo anche regolarla. E poi facciamo il tracciamento. Una volta effettuato il tracciamento andiamo ad aggiungere un'uscita alfa. E colleghiamo l'uscita alfa. Come vedete ora è stato eliminato tutto il background. Ovviamente si poteva definire un raggio per andare meglio, una consistenza, una sfocatura, qualsiasi cosa che vada a migliorarla. E poi ad esempio anche sulla edit è possibile aggiungere un nuovo fondo. Vogliamo fare un leggero viraggio di azzurro per amalgamare meglio il nodo. E ecco qua franco sulla luna. Stessa cosa la possiamo fare in fusion con il nodo magic mask nella stessa identica maniera. Anzi come vedete in fusion è molto più veloce. E così in brevissimo tempo abbiamo ottenuto lo stesso risultato. Visto che siamo in fusion restiamoci con un nuovissimo nodo che si chiama multipoli. Eccolo qua. Lo troviamo anche qui tra i tool. Cosa fa questo tool nuovo? Beh, crea dei poligoni come quello vecchio e anche ovviamente pieni. La novità è questo pannellino sull'explored, l'inspector, dove possiamo aggiungere poligoni all'interno dello stesso nodo. Quindi noi facciamo poligono o spline aggiunto e andiamo ad aggiungerne un altro. Possiamo aggiungere quanti poligoni o spline desideriamo. Inoltre cosa possiamo fare? Possiamo selezionare il poligono che ci interessa e abbiamo tutte le sue caratteristiche. Quindi anche le posizioni. Posizione, rotazione, scala, qualsiasi cosa. Ovviamente il centro, il pivot point è centrale all'immagine per tutti. In questa maniera possiamo anche sommare le forme fra di loro ottenendo sottrazioni e addizioni di queste forme. Una nuova grossa possibilità è quella di trasformare una clip in una composizione di riferimento. Questa qui. E a questa possiamo creare una programmazione in Fusion. Ad esempio vado a fare un effetto con il DVE e tutta una serie di settaggi per creare appunto un effetto. E questo è l'effetto che ho voluto creare, una sorta di specchio. Ora prendo un altro clip. E cosa faccio? Vado a mettere come riferimento la mia composizione. Quindi faccio un link alla composizione di riferimento. E come potete vedere anche questa clip ha preso lo stesso effetto. Quindi in qualsiasi momento possiamo creare clip e abbinargli lo stesso effetto. Inoltre se vado a fare qualsiasi modifica all'interno di una qualsiasi delle composizioni. Ad esempio aggiungo un nodo di blur e vado a sfumare il riflesso che avevo creato. Questa impostazione si ripercuoterà su tutte le clip che facciano parte di quella composizione. Ora in Fusion abbiamo un nuovissimo nodo U-Volume che può caricare i file VDB, file 3D volumetrici. Qui per esempio vado a caricare una nuvola volumetrica. Questo ci permette di avere degli oggetti 3D volumetrici all'interno delle nostre scene e fonderli anche con le nostre riprese. Gli oggetti volumetrici hanno anche un'animazione e per cui è possibile farli muovere oltre che appunto muoverli anche nell'ambiente 3D. Questo è l'esempio di un sito dove ho trovato oggetti volumetrici. Ecco qua l'uragano che ho usato ma possiamo trovare esplosioni, fuochi, fiamme, scie di meteore, qualsiasi cosa. Vedete? Veramente sono bellissimi da poter utilizzare. Le novità non finiscono qua perché ce ne sono tante dedicate alla collaborazione al cloud, al multisource delle camere live, ai controlli replay gestiti da Aten. Insomma c'è veramente tanto da vedere ancora. E anche sono funzioni da scoprire pian piano che verranno spiegate e presentate. Bene è un buon inizio e da qua la strada è spianata per aggiungere sempre più cose e migliorarle. Quindi noi ci vediamo con i prossimi tutorial per DaVinci Resolve 19. Continuate a seguirmi e sostenetemi perché solo così posso portarvi novità sul canale e intermediare con le aziende per poter migliorare software e hardware. E quindi portarvi anche novità nel campo hardware telecamere periferiche. Ciao e alla prossima! Iscriviti al canale YouTube di Franco Aversa e clicca sulla campanella per essere avvisato quando ci sono nuovi video. Ciao e alla prossima!